Dottore Cime ha preso il via il progetto Testimone di Pace, coinvolgerà gli studenti, quali sono gli obiettivi? Il Testimone di Pace è un progetto della Presidenza nazionale, hanno aderito sia da Agrigento che in provincia di Agrigento diverse scuole e abbiamo iniziato proprio all'Anna Franche, di ciò ringrazio il dirigente scolastico per l'accoglienza che è stata riservata e il laboratorio ha avuto un esito molto positivo perché i ragazzi hanno non solo apprezzato l'iniziativa che sostanzialmente fa vedere le vittime civili del 1943 e le vittime civili che purtroppo ancora oggi ci sono, ma sono stati partecipativi con dei lavori che hanno contribuito a fare sempre meglio il laboratorio che è stato realizzato. Continueremo quindi negli istituti che hanno dato la propria disponibilità cliccando nel link della Presidenza nazionale e il nostro sito ANVCG e quindi questi laboratori si completeranno nel mese di maggio. Qual è il messaggio che i testimoni hanno portato tra i banchi di scuola? La testimonianza è stata importante perché tutti hanno condiviso che solo con la pace e con la concordia si possono raggiungere gli obiettivi, non certo con la forza e con la guerra. Volevo anche aggiungere che presso la nostra sezione di Agrigento è stata istituita una vera e propria biblioteca dove sono stati praticamente catalogati tutta una serie di testi che riguardano la guerra del 1943 e ad esempio i volumi che riepilogano la strage di Strazena e altri fatti che si sono registrati dove praticamente i solci potranno attingere a questa biblioteca e quindi approfondire quegli argomenti che sono sempre praticamente importanti per tutti. Grazie a tutti.